Nel 2021 le famiglie siciliane hanno speso per i beni durevoli 4 miliardi e 162 milioni di euro, più 16,4% rispetto all'anno precedente. Un risultato superiore sia a quello nazionale, più 13,6%, che a quello del mezzogiorno, più 16,1%, come rileva l'Osservatorio dei Consumi Fin Domestic, realizzato in collaborazione con Prometeia. Nella mobilità spiccano le performance delle auto nuove, con un incremento oltre il doppio del dato italiano, più 14,8%, e dei motocicli più 35,1%, mentre crescono meno velocemente le auto usate, più 11,9%, commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell'Osservatorio. Fra i beni per la casa, elettrodomestici, più 19,7%, telefonia, più 18,2%, mostrano le dinamiche più vivaci. TV e Wi-Fi, più 36%, mobili, più 18,6%, e Information Technology, più 0,3%, registrano invece un incremento più debole. Per quanto riguarda i dati siciliani, Enna, più 18,4%, Catania, più 17,6%, Trapani, più 17,2%, da Grigento, più 17%, sono le province dove la spesa per i beni durevoli cresce al di sopra della media regionale, mentre a Messina, più 16,2%, Palermo, più 16,1%, Caltanissetta, più 14,9%, Siracusa, più 14,8%, Ragusa, più 14,3%, si registra un'espansione dei consumi inferiore al dato siciliano.